Tanti mi piace signori, condividete il video con i vostri amici, commentate qui sotto con la figurina più bella che avete trovato e mi raccomando ragazzuoli supportate il video se volete il prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale, oggi signori la squadra da 50 bustine come potete vedere qui sotto ragazzuoli abbiamo 50 bustine da aprire ed i migliori giocatori li andremo ad inserire nella nostra squadra su Ultimate Team ovviamente costruiremo la squadra per ogni carta speciale che andremo a trovare tipo l'allenatore, lo stadio, la squadra completa e quant'altro potremo prendere delle carte speciali per le figurine e i giocatori che andremo a trovare per esempio ragazzuoli se troviamo le AO base possiamo farlo diventare le AO potm, if insomma o una carta speciale che ha idem per quara schella o qualsiasi altro giocatore dopodiché andremo a fare una partita e signori come sempre se perdiamo la partita andremo a scartare tutta la squadra quindi mi raccomando signori, tanti mi piace, iniziamo subito ad aprire i nostri pacchettini perché sono ben 50 e vogliamo di fare la formazione migliore che possiamo creare quindi ragazzuoli partiamo subito, allora teniamoceli qua da parte sono veramente tantissimi ragazzi, poi più li sposto più li sto devastando però fa lo stesso allora partiamo con il primo pacco, vediamo un po' cosa ci viene fuori abbiamo Janto, abbiamo Ghiasi, ok, Timothy Weha, buono Zielinski, buono ragazzuoli qua abbiamo il codice ovviamente per voi e qui vabbè questi li schippo direttamente oh però vedi i giocatori, questo per dire sarebbe stato un giocatore speciale che avremmo potuto prendere cancellieri nuova firma e ragazzi io qua mi sa che mi vado a prendere pensando a FIFA prendo Zielinski piuttosto che Weha anche se Weha ha delle carte speciali effettivamente, però per adesso non rischiamo niente tanto abbiamo 50 pacchetti, dobbiamo fare la squadra migliore guardate magari questi due me li metto un attimo da parte e scegliamo tutto alla fine pack numero 2 allora vediamo un pochettino abbiamo, uh, Barrenecea signori Tauven, Camara, ok poi abbiamo Padelli, codice per voi AS Roma ragazzi, ok scudettino speciale Gigi Buffon attenzione capodelegazione della nazionale italiana signori attenzione attenzione Gigi Buffon, bellissima oh è la figurina numero 1 addirittura fortunatissimi ragazzi, oh next ragazzi vediamo un pochettino Biraghi Frattesi, bello Frattesi Marin Kuni o Zuni, non lo so codice per voi Napoli, Napoli, Napoli per le carte speciali e nient'altro qua in teoria vedete la numerazione dei pacchetti quindi sapete quali stiamo aprendo Oliviero lo Sparviero Giroux poi abbiamo Ebuei abbiamo Danilo Felipe Anderson codice signori per voi la Roma buono anche se già avevamo robe speciali poi abbiamo la Panini Elite di Uiono ok e qui sotto abbiamo il Pisa allora signori Rui Patricio buono il portiere sempre difficile da trovare Artur Melo Duncan Zola pacchetto Fiorentina praticamente ok Frosinone Ale perfetto codice per voi poi questi non ci interessano signori La Hoya di Bala bella questa next one abbiamo Carlos Augusto abbiamo Quenac Vernazze abbiamo Krostovic abbiamo Federico Di Marco ok non l'abbiamo ancora trovato no chissà perché lui è Total Black mentre mentre Augusto no certo caso vabbè Frattesi è nero azzurro lui però è tutta nero la figurina sembra tipo una one of one peccato non sia un numerato sarebbe stata veramente una hit clamorosa signori ma non lo è fa niente codicino per voi ok Empoli ottimo e poi queste due qua Pellegri ok Pongracic Pessina Cabasele pacchetto un po' scarso questo eh sempre Milan ok qui abbiamo José Murigno e poi Maurizio Sarri devo dire che non ci sta girando benissimo eh Zortea Arrui poi abbiamo Ciao abbiamo Ferguson abbiamo il Forza Cittadella olè questi non ci interessano abbiamo Cabral non quel Cabral e poi Ternana e Venezia io sto aspettando un Osimen un Chiesa un Leao un Lautaro Martinez eccolo qua signori è il Toro Martinez Filippo Inzaghi ottimo ottimo Okafor buono Messias codice per voi e basta Torsvet Elazuggi Raspadori ci sta Deulofeu ok codice faccio vedere veloce il codice tanto Rabbio Elite signori cevo il codice ve lo faccio vedere veloce Pulisic nuova firma buono Panieri di Quaraschelia ragazzi che pacchetto che pacchetto mamma mia incredibile cioè qui abbiamo un Quaraschelia speciale comunque non per dire comunque stavo dicendo che il codice ve lo faccio vedere veloce tanto al massimo stoppate il video e ve lo prendete Cristante buono success boi voda azi qui abbiamo le aquile o le Trento e Renate Pioli is on fire e della Sverona non so che numero siamo ma siamo tanti eh Dodò Bairami Ismaili Baschirotto qua abbiamo il codice 4 scudettini oh signori attenzione questa è la coppa della serie B esatto ok la numero 5 e poi niente vediamo un po' con la sinacce che dirà grande gualo poi abbiamo Andrea Zoli Gudmundson codice e nient'altro io qua c'è ancora una pila cioè non calano mai ragazzi uh Charles de Catteler che comunque stava anche riprendendo a segnare eh Bomber de Catteler che abbiamo visto prima Ramadani Berisha codice per voi poi abbiamo la Fera al Pisalò il Lecce e poi abbiamo la Oriente potrebbe andare meglio ragazzi eh secondo me potrebbe andare molto meglio Adli Frauler Kvlasic Miranciuk codice Empoli e Bologna ok sono sicuro che possiamo fare meglio perché cioè sono tutti là per noi ragazzi Provedel Olè Ciurria Pellegrini signori Kvica Kvaraschelia eccolo qua abbiamo trovato anche la carta speciale del Napoli quindi vedremo in squadra cosa succederà va bene codicino Cagliari ok ragazzi qui c'è Kvaraschelia manca solo Leao ragazzi dai e Chiesa ovviamente Chiracopulos Caba Alvarez Olivera codicino nient'altro dai me lo sento allora ci manca sicuramente portiere vabbè portiere ce l'abbiamo alla fine Macri Patrizia Sanabia Ciro Immobile lo prendiamo Acerbi vabbè per adesso lo metto via Caldirola codice Lazio per le carte speciali quindi ottimo lo scudettino perfetto secondo me secondo me un Leao potrebbe farci la differenza Strefezza Gineitis Marine un altro Kvaraschelia tanto per cambiare c'è lo doppione perfetto se qualcuno lo vuole scambiare ragazzi commenti qui sotto Kvica Kvaraschelia doppione alla grande direi poi abbiamo attenzione Isai ok D'Ambrosio Grassi Strefezza Frosinone Ale e nient'altro beh adesso stanno calando una montagnetta piano piano sta diminuendo Ngonge poi abbiamo Lukman carino Macombu Bytes Dai Roma ok Parma perfetto o comunque l'album qua stiamo andando vicino a finirlo nel senso Rodriguez Paoletti poi vedrete l'aggiornamento Sanchez Gatti ok vedete l'aggiornamento del mio album ragazzi faremo un episodio Maxi Super Mega XL Turam bello questo dove vi faccio vedere la situazione dell'album per arrivare ovviamente a completarla assieme Wallace Romagnoli Falcone Sulemana poi qui abbiamo il Catanzaro abbiamo Timo Tiwea l'avevo detto all'inizio eh Augello magari trovavamo qualcosa per renderlo speciale signori io mi aspetto una grande squadra eh c'è sta venendo fuori qualcosa di uh colpani di veramente veramente grosso secondo me Ochoa Codicino ok ripeto la montagnetta qua sta piano piano calando Calulu buono il Bari il Catanzaro Augello qui abbiamo il Cittadella ok Rip Cialanoglu può essere buono ok Jack Bonaventura Ecuban Scalvini ok non è ancora uscito nessuna squadra tipo tipo Giovani Talenti Future Stars roba del genere se no Scalvini deve essere buono Quadrado buono Lukman ce l'abbiamo già Scamacca Christensen Forza Inter ragazzoli con la maglia della Juve indosso perfetto da dire ok poi signori abbiamo Olè Radonich Banda Salemakers cambiasso tra l'altro Salemakers sta facendo una grande stagione ma il Bologna in generale ragazzi sta facendo non paura di più cioè adesso che esce il video teoricamente dovrebbe essere ancora in zona Champions League perché ha vinto con la Roma quindi è spaziale Zaccagni Aebiscer Cittadella De Sciglio Dai Gialli ok Parma niente secondo me ne mancano 15 vabbè voi la numerazione la vedete a schermo io no Paredes Musso Lovato Reteghi De Scindio come il musso codice Milan signori Scudettino per le carte speciali Camada Olè comunque belle queste che hanno fatto sulla nuova firma e l'elite ci stanno per avere qualcosa di diverso c'ha una Anghissà Lobotka Linetti Forza Napoli sempre Olè qui abbiamo vabbè Ciccio Caputo ovviamente quando mai che si drinka la sua birretta il Modena next one signori Ecuban Blin Cragno Leao signori è uscito Raffaleao perfetto mamma mia signori bellissimo Raffaleao ragazzi facciamo una squadra che fa paura la padula vediamo 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 Sorrentino Camada consigli Milik però ho anche un un Usimen un Usimen ci vorrebbe ora che ci penso ragazzi perché abbiamo Quara Leao non abbiamo Chiesa Rachmani Danilo Maxim Lopez Duram potrebbe essere carino dai Roma ok qui abbiamo Barella però questa è la speciale cioè noi servirebbe Barella base così con la carta speciale lo apogrediamo Interfemminile Ranieri Pessina Hien Empoli ok qui abbiamo Daniel Bollocca perfetto eh sì un bel Usimen vi dirò Romagnoli Parisi Juan Jesus che difensori non ho pensato troppo eh Folo Ruscio non ci ho pensato troppo Codicino per voi qui abbiamo Palladino allenatore del Monza ok eh difensori centrocampisti ricordo un frattesi oh vediamo vediamo poi Candreva Lascoli Zappata Perilli Forza Juventus eccola qui Cagliari e Udinese in fondo buono per le possibili carte speciali ovviamente qui abbiamo attenzione Bacher Miretti lo prendiamo Max Allegri Olè Ruggeri Rosa Nero Codicino per voi perfetto eh penso ne manchino una decina eh siamo siamo lì siamo lì signori siamo lì Gilardino Coppola Brancolini Interfemminile di nuovo Forza Udinese Stemma del Turino ok e basta una punta abbiamo immobile per carità Politano ci può stare Ranieri Sazonov Ngonge Forza Lecco dicevo che abbiamo immobile sì però anche a centrocampo c'è un po' paura Cancellieri Ferrera Petagna Castellanos Castellanos Codicino qui abbiamo il grandissimo Ciurria del Monza Venezia Pescara Pineto ci siamo signori ormai ci siamo Kulibali Milinkovic Savic Kristiansen Berardi onesto Lecce ok qui c'è D'Aversa buono prossimo pack De Iola Fazio Perin Carboni Codicino nient'altro 2 4 6 ragazzi compreso questo ne mancano 6 Elmas Bastoni non quello buono Odin Obert Olè Atalanta che ci può servire per le speciali in realtà quindi mettiamo di qua Elokman ah no 6 pacchetti adesso avevo contato male Wallyu vabbè questo Radunovic Mulattieri Gallo Forza Dea ok qui abbiamo Juric e di nuovo Sarri manca quel qualcosina in più eh Danimota Montipò Locatelli grazie per il centrocampo ragazzi fondamentale per forza qui abbiamo di nuovo ciurria che abbiamo già trovato ok signori ultimi 4 pacchetti vediamo un pochettino Federico Gatti può essere utile Bari Badei e Bosele codicino per voi qui nient'altro ok terzo ultimo pacco attenzione Abram Victor Osiman signori eccolo qua l'abbiamo chiamato madonna ragazzi che squadra viene fuori Osiman prendiamo su prendiamo su Ravaglia questo qui codicino per voi Alazio che può servire ragazzi penultimo pacco adesso non vedo l'ora di fare la squadra però eh perché è arrivato pure Osimene è atterrato Pulisic madonna pure lui Sommer ragazzi 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 via 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 vogliamo ultimo pacchetto dopodiché si fa la squadra vediamo un po' Cajuste ok Tameenze Kwame Christensen codice per voi e Nathan signori adesso si va a fare la squadra non vedo l'ora perché abbiamo trovato un sacco di campioni e vediamo un po' cosa esce fuori ed eccoci qua signori guardate un po' che squadra è venuta fuori ragazzi Sommer in porta Gatti Kalulu e Danilo difesa 3 ovviamente poi centrocampo a 4 con Timothy Wea versione speciale Locatelli Anguissa è l'unico base mi dispiace Di Marco ovviamente davanti Leao Osimene versione 92 ragazzi pagato 130.000 crediti e Kvaraschelia ragazzi secondo me è un team clamoroso mi sono concentrato solamente sugli unici titolari mi raccomando ragazzuoli lasciate tanti mi piace adesso andiamo a fare la partita vediamo un po' come va vi ricordo se perdo dobbiamo accartare tutta la squadra signori l'ultima volta abbiamo preso la nostra squadra l'abbiamo messa in un aggiornamento oro e abbiamo scartato tutta la squadra perché abbiamo perso la partita oggi ci tocca giocare contro questa squadra qui ma dio santo Cruyff 95 Ronaldinho Gullit Roberto Carlos Maldini chi più ne ha più ne metta la vedo già persa dall'inizio però ovviamente dipendono anche un po' le mani le mie sono marce vediamo un po' le sue signori Leao bello Leao Leao attenzione Leao 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 dentro l'aria prova il tiro addirittura mamma non lo sarei mai aspettato ragazzi recuperate il pallone Ozyman Ozyman con la sua la due volte cosa fa dentro l'aria signori attenzione che questo fa start ti prego quit che io sono contento così ragazzi mamma mia mamma mia Ozyman cosa ha fatto dentro l'aria hop hop e poi l'ha messa la signori quit subito così alla prima partita io mi dispiace prendendo il risultato me lo porto a casa perché è giusto così signori quindi fortunatamente la nostra squadra si salva al completo ragazzuoli tanti mi piace e tanti commenti qui sotto per il prossimo episodio se siete nuovi iscritti al canale grazie a tutti e come sempre ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao